era Mario Biondi con Shainon diciotto e trentasei oggi è giovedì ventuno marzo finalmente si sente eh diamo il buon pomeriggio a Toz ciao Toz buon pomeriggio ecco adesso adesso si sente bene e sto bene noi abbiamo ascoltato prima comunque il brano abbiamo abbiamo suonato in tua assenza please stay allora lo abbiamo iniziato proprio con con la sequenza del dopo pubblicità ecco ce lo vuoi raccontare velocemente che cos'è please stay sì allora diciamo è nato da una una poesia in realtà era un pensiero per una ragazza una specie di amore impossibile nel senso così mi ero reso conto che era molto difficile e allora scrissi prima una poesia per lei che le diedi come si dice il giorno di San Valentino e poi dopo ho scritto la canzone diciamo comunque è una canzone d'amore è una eh un un invito insomma una richiesta insomma eh una ragazza no dai fermati fermati qui accanto a me senti da quanto tempo canti tu? Allora io iniziai mh praticamente nel non da tantissimo ma dal 2005 sì e poi è continuato insomma sì perché la mia vita era una vita diciamo così da eh consulente avevo una società o una società eh comunque una vita mh di business normale sì quindi no attività normale io secondo me eh c'era bisogno di di togliere un po' di aridità e di inserire un po' di emozioni certo allora iniziai a scrivere un libro però eh mi sono detto secondo me la cosa più almeno su di me l'emozione più forte è unire la parola alla alla musica certo nel 2004 iniziai con la chitarra a scrivere le prime canzoni le prime cose le lezioni di canto le lezioni di chitarra le lezioni di quale le lezioni di rata e facciamo arrivati qua. E quindi è giusto così il percorso è appena iniziato noi ti auguriamo naturalmente un grandissimo in bocca al lupo ma vogliamo sapere anche quanti anni hai? Ah no io adesso ho appena compiuto mh 42 anni. E allora auguri. Grazie. Auguri buon compleanno passato ma buon compleanno. Noi ti teniamo comunque in considerazione perché il tuo play stay è in programmazione radiofonica su RL1 eh mi permetto di 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 fare una una cosa magari molto semplice ma eh per cercare di raffigurarti ancora meglio per farti conoscere ancora meglio per conoscere un po' anche i tuoi gusti musicali a chi fai riferimento musicalmente parlando te? Allora mi piacciono tantissimo eh James Blunt eh Dan Rice eh David Grace e anche gli due. Eh beh eh beh scusa se è poco. James Blunt. In Italia? Eh in Italia? Per quanto riguarda i cantanti italiani Battisti sicuramente eh anche Gianna Nannini. E Gianna Nannini che poi fra l'altro ha fatto vincere Marco Mengoni quindi insomma Gianna Nannini e Gianna Nannini cioè anche se non canta vince lo stesso. Senti. È stata lei che ha fatto vincere è stata lei che ha fatto vincere Mengoni. Eh sì. Ecco brava bravo capito. Senti e invece sinceramente no? Da chi ti faresti scrivere un testo per poi interpretarlo? Ah guarda la cosa più bella che mi sta succedendo è questa. Io parlo con persone di tutti i tipi no? Sì. Qua Toronto c'è una una multietnicità che è incredibile. Sì. Allora ogni tanto mi trovo a parlare con persone sulla metropolitana o sulla sull'autobus o dovunque anche camminando tra le più strane. La cosa che mi è successa che mi ogni tanto succede positivamente è che loro iniziano a raccontarvi delle delle storie no? Delle cose che possono essere vere o no ma tu non lo sai. Allora mh ogni tanto dalle storie che loro raccontano o dalle cose che magari ti lasciano può essere una piccola pietra un qualcosa. Nascono poi idee bellissime per nuove canzoni anche se vuoi dire se vuoi un po' fantasiose un po' un po' mistiche un po' fiabesche però certo se uno vede o ascolta certe cose con un occhio creativo no? Non come dire ma cosa dicendo questo eh in teoria possono essere possono essere sicuramente punti interessanti per nuove canzoni. Che ore sono lì a Toronto adesso scusa Tots? Sono le l'una e quaranta. De notte? No no l'una e quaranta ho appena finito di mangiare. Ah di pranzo? Ah perfetto pensavo che ho fatto un po' di confusione. Comunque ti posso dare una dritta non so se lo sai magari siccome noi noi siamo all'Aquila trasmettiamo dall'Aquila e trasmettiamo anche in streaming live quindi se sei a Toronto puoi ascoltare la radio anche lì con rl1.it Roma Livorno uno come cifra punto it quindi se ti senti lontano da casa ascoltaci ogni giorno che ti facciamo compagnia e e poi un'altra ditta che voglio darti siccome trasmettiamo dall'Aquila una città da ricostruire da capo a piedi anche le persone andrebbero ricostruite ma questo è un altro discorso eh voglio ricordarti che Toronto è stata ricostruita sotto tanti punti di vista e sotto diversi punti di vista da un italiano Carlo Baldassarra quindi eh si orgoglioso di essere italiano a Toronto. Sì sì ma guarda infatti ho scritto anche una canzone un mese fa eh sul fatto di essere immigrato eh italiano in Canada e in effetti eh gli italiani hanno mh giocato un ruolo importantissimo nella costruzione di questa città di Toronto. Eh soprattutto Carlo Baldassarra appunto eh un italiano che l'ha ricostruita. Eh ma tutti cioè c'è proprio la nomea. Sì sì italiani come costruttori edili e infatti eh tante compagnie sono poi gestite e controllate da da persone italiane. Certo certo. C'è verissimo. Io farei una telefonata a Carlo Baldassarra se lo incontri saluta lo digli guarda ti cerca Vanni se viene un attimo all'Aquila facciamo presto. Grazie Toz un abbraccio forte. Un abbraccio. Grazie. Ciao e buon caffè a questo punto. Sì adesso vado a sionare. Ciao Toz ciao. Allora abbiamo sentito Toz da Toronto pensate un po' è luna luna e venti a quelle parti e quindi lui ha appena finito di pranzare.